Il personaggio di Aroldo è un tenore dal punto di vista musicale prettamente drammatico con salti di ottava, dal re basso, dal re al do sotto il rigo che svettono velocemente al la, al si bemolle acuto. Dal punto di vista psicologico io vedo il personaggio di Aroldo come un uomo, un uomo innamorato, un uomo lacerato nel scoprire il proprio, il tradimento da parte della propria moglie. Quindi lui è un combattente in questo caso, un reduce dalla guerra e quindi nello scoprire il tradimento appunto della moglie inizialmente l'allontana per poi attraverso nel percorso dell'opera arrivare all'apice con il grande perdono, con il perdono nei confronti appunto della stessa. Aroldo è appunto l'opera che Verri scrisse appositamente per questo teatro quindi con il quale fu inaugurato. E mi piace, tra virgolette, pensare che questo teatro, sebbene sia stato inaugurato appunto tre anni fa, ritorni a vivere proprio con la stessa opera con la quale Verdi lo inaugurò appunto nel 1857. Ecco, quindi questa è una cosa che mi riempie il cuore di gioia e mi dà anche molta responsabilità in questo. Grazie Grazie Grazie